Il teatro Traetta di Bitonto torna a splendere per la stagione teatrale 2021-2022 dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, tempo che però è stato utile per alcuni lavori di ristrutturazione interna. La stagione teatrale presentata lo scorso sabato è anche l'ultima dell'amministrazione comunale guidata da Michele Abbaticchio, che ha provato a tracciare il bilancio di questa esperienza. La nostra ultima stagione l'abbiamo presentata con grande gioia perché riapriamo il teatro, ci sarebbe piaciuto chiudere l'amministrazione senza riaprire il teatro nel suo massimo splendore, non solo fisico, dovuto alle ultime ristrutturazioni che abbiamo portato a termine, ma anche delle opere. E quindi ci fa piacere, oltre a presentare i nomi del calibro di Ambran Gioini, Giobe Covatta, Tosca d'Aquino, anche i nostri grandi nomi bitontini come Gaia Masciale, come Raffaello Tullo, insomma Michele Mirabella è stato qui non più di 20 giorni fa, insomma un bel omaggio, ecco, una carezza e una mano da stringere idealmente alla comunità. Nel programma teatrale infatti, oltre a Gaia Masciale che sarà il traetta con About Lolita, ci sarà anche il pianista bitontino Alberto Jovene con The New Day e l'artista di Polignano Antonella Carone con La Moda del Varietà. Ci saranno Ambra Angiolini con Il Nodo, Giobe Covatta con Scoop, Roberto Ciufoli con Il Test e la trasposizione teatrale del film Fiori d'Acciaio con Tosca d'Aquino. In ultimo ci sono Domenico Clemente con Il Canto del Cigno e Occhio al Cuore, ispirato al romanzo di Edgar Allan Poe. Tra i musicistici ci sono Teresa Ragneri, Achille del Giudice, Cristiano Giordano, Frontman dei Marlene Cunz, Frida Bollani Mangoni, Fabrizio Bosto in Masterclass con la John Cage Center, Cosimo Damiano D'Amato e Chiude la Mastropiro Hermitage Ensemble. La rassegna avrà inizio il 12 dicembre con lo spettacolo Contrattempi Moderni, produzione del traetta interpretata e scritta da Raffaello Tullo, con Alessandro Clemente e Alberto Dirisio, autori anche di Benigni e Fiorello. Sono molto felice perché Bitonto è la mia città e questo è un teatro in cui ho fatto tutti i debutti con la Rimban Band e adesso ci provo da solo ed era importante sentire l'amore della propria città accanto e così è stato, grazie all'assessore Mangini e al sindaco Michela Baticchio che hanno supportato questo progetto come hanno fatto in passato con i progetti della Rimban Band. Questo fa del traetta di Bitonto un comune virtuoso per il circuito del teatro pubblico pugliese. Quando si ha la possibilità di interloquire con amministratori attenti e motivati come il caso di Bitonto, ho detto che il sindaco è innamorato del teatro e questo lo dimostra non soltanto con le parole ma anche con le azioni e con i programmi che sono numerosi e tutti di qualità, come di qualità è anche la stagione, sia quella di prosa che di musica. Davvero complimenti anche per la capacità di coinvolgere poi il mondo associativo e i talenti del territorio. Per gli abbonamenti non mancheranno sconti per gli studenti universitari e per i ragazzi e docenti che hanno partecipato nelle scorse edizioni a Bitonto Cortili Aperti.